Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104-05 FM Let's begin Intanto arriva un solista che darà modo insomma alla band di fare il sound check con tempistiche più blande Sì 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 dunque dunque allora messaggio alla giuria Ora manderemo in onda e sul palco Claudio Lui è un talento lo conosciamo bene noi di By Night Roma Votate per il numero 9 Sembra quasi un televoto ecco telefonateci no Votate per il numero 9 Lui è Claudio ci presenterà un brano inedito Ce l'ho già qua sul palco Il brano inedito si chiama Francesca C'è Claudio che non lo sento in diretta? C'è Claudio? Ci sei Claudio? Devi parlarci C'è 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 allora vai talento della notte romana By Night Roma in diretta Radio 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 By Night Roma Radio By Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana Claudio con Francesca Ora che è tempo di sperare aprire le ali per volare Non si può cambiare il mondo ma si può affrontare un sogno E ora osservo un po' impotente il tuo allontanarmi dal tuo cuore Un frastuono nella mente Un frastuono nella mente Io ti chiedo di restare ancora un po' E cammini nelle strade della vita Tra un bivio e una salita Non si arriva proprio mai E ora ascolti tra milioni di parole Quella che viene da un cuore che tra un battito e un levare ti aspetterai E Francesca Ora vai non ti voltare Ma se un giorno guardi il cielo C'è una stella che ora brilla E pensa a te E pensa a te Grazie Radio Radio By Night Roma 104.5 Grazie a tutti.